buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi venerdì 14 agosto 2020 siamo in diretta sono le 7 del mattino e questo è il canale 17 di fano tv che come tutti i giorni da lunedì al sabato vi propone all'inizio della giornata dopo le preghiere anche l'informazione quindi l'informazione locale con i due giornali il Corriere Adriatico e il resto del Carlino che abbiamo già pronto e selezionato per voi con le pagine a nostro parere a nostro giudizio più importanti ma come di consueto chi ci segue ormai da tanti anni sa che la giornata è la rassegna inizia con il santo del giorno e lo vediamo con il nostro cartello oggi è un santo straordinario che io amo tantissimo San Massimiliano Maria Colbe il sole sorto alle 6 e un quarto tramonterà questa sera alle 20 e 18 e adesso il tempo siamo alla vigilia di ferragosto il cielo per oggi sarà sereno poco nuvoloso sulla costa mentre si prevedono nel pomeriggio rovescio temporali sulle zone interne alto collinari e montane per domani giorno di ferragosto cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti deboli cumuliformi durante le ore centrali le temperature sono in lieve diminuzione nei valori minimi per la giornata di domenica 16 agosto ancora cielo sereno su tutta la costa adriatica qualche nuvolosità soltanto nell'entroterra condizioni stabili e soleggiate per lunedì 17 poi da martedì è atteso un peggioramento con temporali ed un calo delle temperature e adesso dalle previsioni del tempo andiamo subito a collegarci con il nostro bagnino Tommaso Tommy per tutti quanti per gli amici allora Tommy vedo che già la gente è in acqua vedo che anche oggi sarà una giornata splendida di sole di caldo siamo d'altra parte alla vigilia di ferragosto Buongiorno Marco sì 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 anche oggi si ripresenta un must di questa settimana quindi bellissima giornata gente già attiva dalla mattina presto e un caldo che sicuramente si fa sentire Ecco volevo chiederti una curiosità siccome si parlerà molto di spiagge di balli di eventi che ci saranno anche durante questo ferragosto intanto come vi siete organizzati voi se hai voglia di fare un po' di promozione ma 10 secondi Ma guarda Marco noi abbiamo già tantissimi servizi in spiaggia e siamo sempre molto attivi durante la settimana Noi come come stabilimento balneare garantiamo il massimo della disponibilità per tutto ma per evitare problemi e visto anche le notizie degli ultimi giorni riguardanti i covid-19 abbiamo deciso di non fare troppa troppa movida Quindi la nostra spiaggia sarà aperta noi saremo stradisponibili in pompa magna per tutte le attività di aperitivi eccetera ma faremo quello che faremo tutti i giorni Senti l'ultima domanda invece è una curiosità c'è gente che viene in spiaggia con le mascherine? Sì 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 arrivare in spiaggia quasi la totalità delle persone un 70% arriva munito di mascherina questa è una cosa positiva Poi chiaramente la mascherina va un po' morendo nell'attività balneare cioè in acqua chiaramente le persone non la mettono Ecco però per spostarsi per esempio per andare ai servizi igienici piuttosto che al bar eccetera sono molto bravi Ecco si mette la mascherina Grazie Tommy buona giornata allora non ci vediamo domani perché domani è festa e noi essendo una festa di precetto perché è l'assunzione di Maria Vergine noi ci vedremo direttamente lunedì Grazie buon ferragosto allora e apriamo la nostra segna stampa con la prima del Corriere Adriatico L'edizione di Pesero festa al mare ricci niente danze l'ordinanza in vigore dalle 8 di ferragosto e fino a lunedì notte Mascherine obbligatorie i gestori degli stabilimenti dicono noi siamo responsabili abbiamo potenziato i buttafuori per vigilare Intanto sulle discoteche, l'ordinanza, le marche ballano ma siamo al limite Vacanze in Croazia, ritorno tampone per 100 persone, casseforti tagliate, un nuovo assalto in casa a Pantano e poi città in maiuscolo il rilancio di Coltorti Faremo la seconda galleria della Guinza, Rossini in piazza del Popolo, gli spazzini fanno coreografia, ci sono proteste per il passaggio serale dei mezzi di raccolta dell'immondizia a Pesero Lasciata in strada Il Carlino all'assalto del contagio, il titolo della fotonotizia a centropagina, allertati club nautici e diportisti, avvertite quando tornate e mantenete l'isolamento Ieri l'arrivo di 120 passeggeri dalla Croazia, proteste e le prenotazioni vanno a picco Ferragosto senza balli, titolo d'apertura del Carlino di Pesero senza balli in spiaggia, danze vietate, obbligo di portarsi dietro le mascherine Ma qualche bagnino dice faremo la festa lo stesso Gli impianti sportivi riaprono per vice e fanno mille spettatori ma la VL deve fermarsi a 200 E poi sotto cassaforte sventrata rubano anche l'ardisca, i ladri eliminano le tracce delle telecamere interne Covid, i vigili multano 5 locali, ristoratore nei guai per i tavoli troppo vicini e i camerieri sorpresi senza protezione Le pagine interne della nostra rassegna stampa, allora dicevamo delle distanze, mascherine, controlli Le marche continuano a ballare, arriva un nuovo decreto della regione sia alle discoteche all'aperto ma con una serie di restrizioni Ma il sindaco di Pesero, ex zona rossa, vieta le danze nel giorno di Ferragosto Mentre a San Benedetto il sindaco dice attenzione oppure qua chiudiamo tutto Allora per quanto riguarda il decalogo per le discoteche e locali notturni Velocemente vale la rilevazione della temperatura corporea Quindi l'accesso resta vietato a chi ha sopra i 37,5 gradi Nel locale bisogna tenere un metro di distanza tra gli utenti ma almeno due metri nella pista da ballo La sorveglianza è sempre al massimo, presenza di addetti per il rispetto del distanziamento interpersonale Nei guardaroba gli indumenti e gli oggetti personali vanno messi in appositi sacchetti portaabiti Le mascherine ovviamente sono obbligatorie al chiuso, all'esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro Le bevande, non è consentita la consumazione di bevande al banco E naturalmente tutti questi locali vanno frequentemente puliti, disinfettati sia nei servizi igienici che nelle varie superfici E adesso invece la questione di coloro che vanno all'estero Però in particolare a noi interessa evidentemente quelli che vanno in Croazia Quindi dall'altra parte dei nostri dirimpettai E su questo fronte adesso si mobilita anche la Capitaneria Come titola a pagina 2 il resto del carino di oggi Virus, si mobilita la Capitaneria Questo è il titolo, allertate i club nautici di portisti, segnalate l'arrivo e restate isolate Le disposizioni del comandante Maurizio Tipaldi ieri sera sono sbarcate in 120 dal catamarano proveniente dalla Croazia Ci sono state proteste Qualcuno ha detto io il tampone non lo faccio Intanto ci sono altri 5 casi positivi Si tratta di una donna residente a Fermignano che rientrava dall'Africa Poi un 47enne di Monte Cerignone Cui è stato fatto il tampone in occasione di un trasferimento in una struttura sociosanitaria Lui era asintomatico però quando si va in quei posti si fa obbligatoriamente il tampone Quindi si scoprono anche casi di positività Poi c'è un 19enne di Fano che ha avuto un contatto con un positivo Poi una 39enne operatrice sanitaria trasferita in una struttura di Rimini E infine una donna straniera di Carpegna Tornano dalla Croazia per un centinaio scatta il tampone entro 48 ore Questo è l'altro titolo Siamo sul Corriere I passeggeri del catamarano i primi a doversi sottoporre al controllo al protocollo sanitario La Capitaneria di Porto ha lavorato in stretta sinergia con i responsabili dell'Asur Intanto le conseguenze quali sono? Soprattutto per chi lavora con questi viaggi anche mordi e fuggi Il rischio che è ormai evidente Sono tante disdette in questo momento per la Croazia Con il catamarano veloce Pesaro Lussino Dopo le nuove disposizioni Un ferragosto ormai compromesso Così come le prossime partenze di fine mese Le prossime con il catamarano sono previste proprio per domani e il 17 di agosto Per entrambe le dati erano già confermati 250 passeggeri Ma in queste ultime ore si stanno accavallando le cancellazioni A conti fatti si teme già un 50-60% di disdette per le prossime partenze Tutte conseguenza del nuovo provvedimento che obbliga al ritorno del soggiorno Qualunque sia la durata di sottoporsi al tampone con l'eventualità della quarantena Se però uno viene trovato positivo Però c'è l'obbligo di tampone Uno va in Croazia, torna, deve fare il tampone entro 48 ore Dopodiché se è positivo chiaramente deve stare in quarantena Intanto c'è la notizia sul resto del Carlino Di una skipper, Elisabetta Maffei, che vedete sorridente in questa foto Che dice io la mia quarantena l'ho già fatta in barca È una skipper pesarese tornata in città da Barcellona Dove le avevano annullato una regata per il Covid 18 giorni praticamente in mare in solitaria E così dice io la quarantena l'ho già fatta Perché la quarantena, rispetto del nome, in realtà sono 14 giorni Le ne ha fatti 18 e dice li ho fatti in mezzo al mare in solitaria Questa invece è la pagina di nuovo del Corriere Si parla di una notizia importante soprattutto per gli sportivi Da lunedì praticamente prossimo è consentita la partecipazione agli eventi sportivi Dunque il pubblico che però non deve superare il numero massimo Di mille spettatori per impianto sportivo all'aperto E 200 spettatori invece per impianti sportivi al chiuso La partecipazione del pubblico dunque è consentita Si legge in questo decreto del Presidente Ceriscioli Esclusivamente nei settori degli impianti sportivi Nei quali sia possibile assicurare la prenotazione E assegnazione preventiva del posto a sedere Con adeguati volumi, ricambi d'aria Nel rispetto ovviamente del distanziamento interpersonale Quindi regole ovviamente rigide Frontalmente e lateralmente La distanza dovrà essere di almeno un metro Con obbligo di misurazione della temperatura All'accesso al palazzetto dello sport Insomma nella struttura E utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie Coronavirus premi a chi è stato in prima linea Questa è la notizia da San Lorenzo in campo Che nel giorno del patrono ha consegnato Ben 35 benemerenze a medici, infermieri, volontari Agenti di pubblica sicurezza Tutto questo lo ha fatto il sindaco dell'Onti E questa è la fotografia di un momento di questa cerimonia La municipale a Pesaro invece la polizia ispezione i locali Lo fa in abiti civili Quindi in Borghese ha elevato 5 verbali per mancate distanze La multe di 400 euro i controlli anche nei chioschi dei bagnini E gli agenti appunto come dicevo si muovono in abiti civili Molti tavoli non erano distanziati tra loro E il personale di sala non aveva la mascherina di protezione E per questo sono stati multati Ci sono controlli che avvengono in abiti civili Quindi non è possibile per il personale accorgersi dell'ispezione in corso E quindi correre ai ripari L'attenzione ovviamente è tornata massima Per il rispetto delle regole anti-Covid E ferrea Perché c'è la paura Perlomeno di un'ondata di ritorno di questo virus Dopo aver conosciuto gli effetti della prima comparsa Parliamo di marzo Che è costata alla nostra provincia Alla provincia di Piesa Urbino 523 morti Insomma ci sono tante persone che scrivono Che segnalano alla polizia Ma anche a noi Così come al giornale Ci mandano fotografie di tavole apparecchiate Dove si vede benissimo Che la distanza di un metro non è assolutamente rispettata Quindi come dire Questi controlli certamente servono E sono importanti Perché in questo momento Dobbiamo davvero Non possiamo permetterci Un'altra Un'altra chiusura Anche se Come pare E poi Queste persone che risultano positive Di fatto Portano avanti la loro Quarantena senza grossi problemi Spesso rimangono asintomatici Non hanno nessun tipo di effetto Sul proprio corpo Sulla propria salute Però il fatto che aumentino i contagi Non è un buon segnale Dobbiamo mantenere la calma E quindi continuare a essere bravi E ligi come lo eravamo qualche settimana fa Quando avevamo paura E ora l'indice R con T È sopra di 1 1,03 nelle marche Quindi dobbiamo stare lì attenti Andiamo a vedere l'altra Sempre nella pagina del resto del calino Questa fotografia Dopo la tartaluga Luciana Ecco il fenicottero A Baia Flaminia Lo hanno battezzato Gioacchino Insomma Questa è una fotografia Che troverete sul giornale di questa mattina Il virus ferma La 162esima festa dei Cappuccini Siamo a Urbino L'appuntamento che risale all'Unità d'Italia Rinviato per la tutela degli anziani E delle famiglie Festa del Duca Però oggi il gran finale rinascimentale Spettacoli Ancora spazio agli artigiani Per arrivare ai fuochi d'artificio Pirotecnici in notturna Fuochi d'artificio che si terranno alle ore 23 Ad Urbino Con questo gran finale In piazza Duca Federico Ancora notizie Questa volta parliamo dell'ospedale unico Quello che servirà alle due città Pesero e Fano Perché? Perché il resto del Carlino Pubblica una dichiarazione Del candidato presidente Maurizio Mangialardi Che promette di dare impulso A questo progetto Che lui definisce D'eccellenza Si farà un ospedale Dice Mangialardi Tra Pesero e Fano Prima lo facciamo e meglio è Ha detto Il consigliere del PD Andrea Biancani L'ospedale nuovo non sarà unico Dice Mangialardi Sarà un presidio di eccellenza Al servizio dell'intera provincia E la medicina del territorio Sarà sviluppata Da Senigallia invece La spiaggia di Velluto Out Niente ombrelloni liberi In molti stabilimenti I titolari devono rifiutare i clienti Non sapendo praticamente dove metterli Fino al 18 di agosto Non ne abbiamo Molti hanno chiamato Soprattutto dall'Umbria Quindi c'è voglia di fare vacanze C'è voglia di Anche fosse un giorno Anche fossero due Semplicemente sabato e domenica Però purtroppo Non ci sono spazi Non c'è posto Nelle nostre spiagge E non c'è posto Praticamente ormai Non c'è un metro di spiaggia libera Verrebbe da dire La cronaca Schianto in moto Grave una coppia Viaggiava in sella Ad una moto BMW 800 Si è scontrata A lungo la strada Dei Fangacci Con un'auto È successo ieri mattina Alle 10.30 Sulla strada Provinciale Dei Fangacci Tra Acqualagna E Durbino Una moto Con in sella Una coppia di turisti 62 anni di Milano Per cause da accertare Ha invaso La corsia opposta E praticamente Si è scontrata Con una Volkswagen Up Condotta da una donna Di 48 anni Di Perugia Che è praticamente Rimasta Inlesa Blitz in spiaggia Stop ai lettini Titolo del Corriere di Fano Controllo congiunto Di Polizia Locale Guardia Costiera Sull'arenile libero Del circolo nautico Gimarra E Sanzione Salata Il gestore Zaffini Dice Li affitto Da 12 anni Ora manca L'autorizzazione del Comune L'area Non è in concessione Turistica Da 12 anni Dice lui Affitto lettini Ai bagnanti Della spiaggia libera Senza fornire Ulteriori servizi Ma dall'inizio Dell'estate La Polizia Locale Mi ha già fatto visita Tre o quattro volte Affermando Che non posso Più farlo Con i rientri Dalle vacanze Attesi Nuovi casi Di contagio La pagina di Fano Del Corriere L'autorità sanitaria Locale Considera la tendenza Chiara In attesa Dei dati Del Gores Saluti da Fano Tra i mostri Sporcizia Ed abbandono Questo è il titolo Che ha deciso Il Carlino In apertura Nella pagina di Fano Il simbolo Del Degrado È l'ex hotel Riviera Alla Gimarra Con i teli volanti Accanto è stata realizzata Un'area camper I clienti Sono alleviti Per quell'edificio Che in effetti Insomma Non è che sia Un granché Perlomeno Ricordo che Pesaro Ricci Giustamente Aveva fatto Sistemare Un grosso palazzo Credo che fosse Alle 5 Torri O giù di lì Non ricordo bene Ma proprio perché C'erano questi teli volanti E il sindaco Ha obbligato Il sindaco Ricci Ha obbligato Il proprietario Di quell'immobile Di un palazzone enorme A sistemare Questi teli Ecco Sarebbe cosa buona E giusta Fare la stessa Medesima Identica Cosa Con questo Con questo stabile L'ex hotel Riviera Che così com'è Fa veramente Pena Circolo velico Gimarra Sottotiro I suoi lettini Nella spiaggia libera Blizze Della capitaniera di porto E della municipale I verbali sono in arrivo Dunque ne parla anche Il resto del carlino Così come il resto del carlino Parla di questa modella Disabile Che si laurea Contesi sull'handicap Rossella Fiorani Di Fano Laurea Fresca laureate In culture Tecniche del mondo Della Testimonia Della disabilità Ne abbiamo parlato Della sua storia Anche nei giorni scorsi Strada con buco E la protesta Di Ponte Sasso Siamo in un quartiere Di Fano Turisti e residenti Aspettano da troppo tempo La sistemazione Della statale Che attraversa L'abitato Manca anche Il marciapiede Sotto Ecco Sulla pagina Di Iesi Fabriano Del Corriere Adriatico Invece Ecco qua Il nostro Caro Beato Antonio Il nostro Beato Antonio Mentre Sta lì Tranquillo Dopo 600 anni Perché è morto 600 anni fa Tutto incelofanato Ma ancora Bello conservato E lì Mentre Appunto Gli viene fatta Questa attacca Ora È stato fatto Il Beato Antonio Da Fano È un francescano Morto nel XV secolo È la prima volta Che all'ospedale Profili Viene fatta un'attacca Ad un religioso deceduto Secoli fa Il corpo Scheletrizzato Con bacino E arti inferiori Mummificate È stato studiato Dai medici Dell'ospedale Dai dottori Luca Ventura E da Da Mirco Ecco volevo darvi anche i nomi Traversari Antropologo fisico Della Università di Bologna Il Beato Antonio Da Fano È arrivato ieri pomeriggio Nel reparto di radiologia Al piano terra Poi è stato È stato messo Nella sala apposita Dove vengono effettuati Gli esami diagnostici Gli è stata fatta Una radiografia Poi Anche Un'attacca E dall'esame È emerso Che il Beato Antonio Da Fano Era in buone condizioni Di salute Era deceduto Intorno ai 50 45-50 anni Di età Tra l'altro Molti Per Quell'epoca Siamo Nel 1435 Lui è morto Nel 1435 Così c'era scritto Nell'etichetta Sulle sue ossa Non sono risultati Segni di particolari Patologie O di traumi Il corpo è ben conservato Anche se Ovviamente Non ci sono Gli organi Ora Che cosa succederà Dopo l'esame È tornato A Valleremita Fabriano Nell'eremo francescano Val di Sasso Poi Si spera Che in qualche modo Possa tornare A Fano Questo Beato Antonio Ora va detto Che Beato Beato Solo per devozione Perché Non ha Subito un processo Di canonizzazione Di beatificazione Non esiste Anche perché Nel 1300 1400 Ancora I processi Di canonizzazione Sì c'erano Perché Con Urbano II Il primo Papa francese Quello delle Crociate Si è iniziato A interrogare I testimoni A pretendere Dei miracoli Quindi insomma C'è stato Un bel lavoro Poi tanti Più o meno Iniziato tutto lì Però Lì La Fano Al Beato Di Antonio La Fano Non c'è Non c'è Nessun documento Che attesti Appunto Miracoli O quant'altro Viene chiamato Beato Per devozione Ecco Questo per essere Un po' Precisi Ora Andiamo Sulla pagina Della Valmetauro Sulla pagina Valmetauro Pistola Finte Coltello Tra i bicchieri Alterco Alcolico A Fossombrone In Corso Garibaldi Spuntano Fuori Una lama E un'arma D'aria Compressa Il sindaco Bonci dice Per fortuna Nessun contatto Fisico Ne conseguenze Per tutti I presenti Poi Invece Da Senigallia Paga con I soldi falsi Il negoziante Li insegue La filma Con il cellulare Ma lei riesce A fuggire Trambusto Al mercato Sotto i porti Cercolani La cliente Stava per raggirare Un altro Commerciante Però poi Lei Riesce a fuggire Mentre il commerciante Il negoziante La insegue E fa anche un filmato Nel frattempo Poi Una serie di incidenti Sulle strade Ad avere la peggio Sono stati I ciclisti Incidenti lungo La Siligata E anche A largo Aldomoro Qui siamo Sul corriere Adriatico I ladri seriali Invece vanno A caccia Di casseforti Poi cancellano Le tracce Dei loro passaggi Nel senso Che prendono L'hard disk E quindi Cancellano Praticamente Tutto quello Che la telecamera Di sorveglianza Aveva registrato Altro colpo A Pantano Un quartiere Di Presero In via Fratelli Bandiera La banda È passata Dall'arretro Dell'abitazione È portato via Praticamente Tutto quello Che si poteva portare via Turno di notte Siamo sempre Su Pesaro I vigili Non ci stanno E ora minacciano Lo stato di agitazione L'assemblea del personale Indetta dai sindacati Chiede delle risposte Entro una settimana Intanto vanno all'asta Le moto del Museo Morbidelli Da oggi a domenica Oltre 200 pezzi In Inghilterra Andiamo sulla pagina Invece di Vallefoglia Ucchielli Scrive anche A Lamorgese Il ministro Dell'interno Paolo Polo Della sicurezza Nuovo appello Il sindaco Chiede alla ministra Dell'interno Una struttura operativa Per le forze Dell'ordine Cantiano Più vicina All'Europa Grazie a Carrabs Il numero uno Di Svim Noi cinghie Di distribuzione Tra Bruxelles E i territori A Urbino Raffaello Effetto promozionale Perso Turisti agostani Non soggiornano qui Confesercenti Borciani Sgonfia le presenze De Crescentini Serviva di più Cioppi Aspetto Che ci convochi Moto contro un'auto Doppia le ambulanze Ad Urbani A un centauro Improngio di riservata Gravissima Anche la moglie Entrambi ricoverati A torrette Mentre qui di fianco Vedete la vipera Che poi è stata Uccisa Una vipera Di grosse dimensioni Trovata in zona Cipe Nei giardinetti Siamo nella zona Di Fermignano L'Isippo La statua Dello scultore greco Rogatoria Alla Corte Federale La richiesta Emessa dal Tribunale Di Pesaro È stata visionata Dall'ambasciata americana Con ulteriori Risibili richieste La PM Cecchi Silvia Cecchi Che vedete in questa Fotografia Insieme a Rodolfo Battistini Dell'associazione La PM Cecchi Ospite dell'Associazione Marinai d'Italia Dice Ci sono stati Depistaggi La statua È stata trattata Barbaramente La Fano Grosseto La Fano Grosseto Si fa La Guinza Sarà a Norma Con la seconda galleria Il senatore Coltorti Conte dice Attendibile Visto che si riparte Faremo le cose Per bene La pagina dello sport Sarà la vispesero Più forte di sempre Il DG Borozanna È entusiasta Siamo fiduciosi Anche della riapertura Degli stadi Prima però pensiamo Agli abbolamenti Per mille persone E ancora Dalla pagina Dello sport Del Corriere Adriatico Il primo abbraccio Dei tifosi Della viso Oggi al Benelli Verso le 19 Marchi e Gelonese Saluteranno il pubblico Il bomber segna E trascina Il romano Ha 25 anni E da 6 Gioca nella serie C Per quanto riguarda L'Alma Juventus Fano Fano riparte Dal prelato Il prelato è una zona Vicino a Montegiove Dove Verrà fatto il ritiro Precampionato Luogo Ormai fortunato Dei playoff L'Alma di mister Alessandrini Si raduna Lunedì prossimo Si resta in zona Anche per la miglior logistica Riguardo L'effettuazione Del protocollo Sanitario Il Corriere Titola Fanno l'attesa Di tifosi Continua Prima i fedelissimi Granata Aspettavano di conoscere Il nuovo proprietario Ora di giudicarne Le mosse Fattò Fidani Questo è il nome Del nuovo presidente Ha offerto Una buona impressione Mentre su Gabellini I giudizi Continuano ad essere Discordi C'è chi dice Bene E come sempre C'è chi dice Male Ma andiamo E chiudiamo Con la MotoGP Via libera Agli spettatori Accordo siglato Per 10.000 persone Al giorno Sulle tribune Per il doppio appuntamento Di settembre A Misano Belluzzi Segretario del PD Dice Cattolica Può vincere Con eventi collegati E piloti Confermando Le due gare In futuro E con questo Chiudiamo qui La nostra rassegna stampa Grazie per averci seguito Vi auguro Una buona giornata Vi do appuntamento Questa sera Alle 20.30 Con il telegiornale Occhio della notizia E vi auguro Anche Un buon ferragosto Domani Ovviamente Come ho già detto Non andremo in onda Ci ritroveremo qui Lunedì Arrivederci Grazie a tutti